La festa del basilico, basilico che potrete degustare con le troffie al pesto, basilico che potete comprare assieme al pesto dei produttori di Pra, è un prodotto locale, basilico che verrà pestato nei mortai in una gara riservata sia ai bambini che agli adulti, basilico degustato nell'aperitivo preparato dai ragazzi del Bergese e poi musica, cortei storici e sabato sera i fuochi d'artificio sempre a tema. Ecco, è un modo per ricordare quello che è una particolarità del territorio perché non si può non parlare, parlando di pesto, non parlare di Pra. Sicuramente sì, è il nostro orgoglio, è stato quello che ci ha fatto tirare fuori l'orgoglio nel momento in cui Pra si è resa conto che senza il suo mare stava un po' morendo. Allora abbiamo pensato di mettere in primo piano quello che era il buono del territorio e cosa meglio del basilico, conosciuto in tutto il mondo il basilico di Pra diciamo che è un'eccellenza per cui noi siamo orgogliosi e che speriamo di portare avanti nei discorsi e tirare a mandare alle nuove generazioni. Noi chiaramente siamo nati lì, abbiamo subito tutta la trasformazione siamo molto legati a questo discorso ma soprattutto ci interessa che questo discorso venga portato avanti dai bambini e questo è anche uno dei motivi per cui facciamo queste feste.